Questo è davvero un ottimo periodo per lui. Grandissima forma la sua. Tevez lo salta di netto. Tevez! Attenzione, ecco il gol! Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma. Gli avversari devono marcarlo meglio. Ecco il tiro! Era Juve l'assegno! Rivediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza. Li stanno umiliando Pierluigi. Vediamo se questa rete gustiamocela da una prospettiva diversa. Parte il tiro! Che gol! Splendida rete! Il battador Cavani non finisce mai di stupirci e bisogna aggiornare i suoi numeri dei gol. Nato per fare gol per lui.